Il Conservatorio Cimarosa ha un nuovo auditorium da 404 posti intitolato Vincenzo Vitale, grande caposcuola dell'arte pianistica, fondatore e primo direttore del Conservatorio di Avellino. Con il nuovo auditorium si consolida una storia quarantennale di attività del Cimarosa. Sabato l'inaugurazione con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Auditorium moderno e funzionale che può ospitare fino a poco più di 400 persone, un motivo di grande orgoglio tanto da spingerlo a dire, è il nuovo teatro di Avellino. Di fatto è il teatro che oggi la città ha, che è aperto, che funziona, ha una dimensione e delle caratteristiche tecniche tali da non renderlo più soltanto uno strumento dedicato alla didattica e quindi agli allievi e ai docenti del Conservatorio, ma con questa attività di restauro lo abbiamo definitivamente aperto all'utilizzo della città, della provincia, di enti, associazioni, privati, di chi organizza e produce musica e cultura in Irpinia. Ma mi piacerebbe parlare di musica oggi, del Conservatorio e non portare in questa sede polemiche politiche o insomma anche il degrado che la città sta vivendo dal punto di vista amministrativo. Questo è un fatto positivo, cioè in una città dove le cose non funzionano, dove le strutture si chiudono, dove ci sono problemi, questo è un teatro che apre. Direttore, sabato l'inaugurazione del nuovo auditorium del Conservatorio, ci saranno ex allievi di questa scuola, tra questi anche Carmen Giannattasi? Eh beh sì, innanzitutto scusatemi per l'emozione perché è un evento per me straordinario, vedere il Conservatorio che cresce naturalmente è sempre un orgoglio per me e una soddisfazione. dunque non solo la Giannattasi o anche gli altri solisti sono tutti ex studenti del Cimarosa che ora sono in carriera e che quindi regalano al loro istituto un momento particolare di arte, della loro professionalità, delle loro capacità, delle loro abilità.